sai come l'ha fatta più solenne il fatto più solenne sono più istituzionali risulta allora le probabilità della crisi sono inversamente proporzionali al numero dei mutui per l'acquisto della prima casa e contratti presso l'ufficio del partito delle moglie il mutuo conta e mi risulta che più di 200 sono i mutuatari, alcuni anche della Lega e sono molto sarebbero molto affranti dal dover interrompere questa consuetudine e questa relazione interbancaria diciamo così